Il memorandum d'intesa Italia-Libbia, che è poi l'oggetto dell'incontro, è stato molto criticato e presenta, secondo molti costituzionalisti, dei profili di incostituzionalità notevoli. Qualcuno parla di naufragio della Costituzione e diciamo che dal punto di vista quantomeno umano, ogni volta che annega qualcuno che sta cercando di raggiungere le coste italiane dalla Libia a largo della Sicilia, effettivamente anneghiamo un po' tutti con i nostri valori costituzionali e quindi con la Costituzione che ci dovrebbe rappresentare. A Palazzo San Giacomo si è tenuto il primo incontro di un ciclo di conferenze in occasione dei 70 anni della Costituzione italiana sul tema il diritto di asilo e le politiche migratorie, riflessioni sul memorandum d'intesa Italia-Libbia sull'immigrazione, organizzato dall'assessorato all'avvocatura e dal Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Napoli. Esigenza inelubibile della pubblica amministrazione ma soprattutto esigenza che sentono i cittadini quella di intervenire per governare il fenomeno dei migranti che assila e che sta diventando probabilmente un punto di forza anche abbastanza squalido di alcune forze politiche.